La decisione di porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto che proroga le missioni è un passo che noi riteniamo grave, che non condividiamo, specialmente nella tempistica, e che ci appare come legito di una gestione, come minimo leggera, se non addirittura incompetente, dell'iter parlamentare di un provvedimento particolarmente delicato. Prima di articolare la posizione del gruppo parlamentare della Lega Nord, vale la pena di ricapitolare i punti salienti della vicenda. Come noto, il Governo ha ereditato da quello che l'ha preceduto l'incarico ingrato, il compito ingrato di reperire in autunno, entro il 30 settembre, per la precisione, le risorse indispensabili ad assicurare la prosecuzione fino alla fine dell'anno dei numerosi interventi e delle forze armate in corso in scenari esteri. Il Governo vi provvede con quattro giorni di ritardo, il 4 di ottobre, circostanza in sé non inedita né scandalosa, a dire il vero, e poi presenta il consueto disegno di legge di conversione in questo ramo del Parlamento, in base al criterio dell'alternanza, essendo avvenuto lo stesso al Senato nella scorsa legislatura. Lì si trova a fronteggiare dei rilevi di merito che, nel caso della Lega Nord, sfoceranno in una serie di emendamenti ed una relazione di minoranza dagli intenti costruttivi, ma anche da una serrata azione ostruzionistica da parte di altri due gruppi parlamentari. Un fatto, anche questo, che rientra nella dinamica della politica ed è perfettamente legittimo, a prescindere che si condivida o meno questa modalità operativa dell'azione parlamentare. A quel punto, però, si verifica la sorpresa. In questa Aula, molto sottovoce a dire il vero, ma comunque in modo percepibile, si inizia a considerare l'idea di lasciare cadere il decreto per presentarne un altro a dicembre, con cui sanare ex post gli effetti prodotti dal Decreto 114, anziché trarre le conclusioni del caso e porre rapidamente la questione di fiducia. Non si effettua nessun tentativo di velocizzare le procedure, anzi, al contrario, si blocca quasi interamente l'iter del decreto omissioni nell'attività dell'Aula. È su questo elemento che noi oggi desideriamo ragionare seriamente, perché l'accaduto ci pare dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, una scarsa conoscenza da parte di Governo e maggioranza del diritto pubblico nel nostro Paese e una grossa mancanza di considerazione degli effetti esterni di una scelta di questo tipo. Perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ricordo al Governo, ha censurato molti anni fa, bollandola come contrario allo spirito della lettera della nostra Carta Costituzionale, la prassi in voga nella Prima Repubblica di reiterare i decreti leggi non convertiti entro il prescritto termine dei 60 giorni. Non è possibile, a livello di Governo e maggioranza, che signore un dato così basilare. Secondariamente, vi siete mai chiesti che impatto avrebbe avuto sui soldati impegnati in teatro ad alto rischio effettivo o potenziale come l'Afghanistan e il Libano, la Libia e le acque dell'Oceano indiano la decisione, in effetti molto pilatesca, di lasciare decadere questo decreto? Come si dovrebbe sentire un militare nel leggere che l'autorità politica che lo manda in missione si disinteresse della sua sorte sino al punto di considerare l'idea di lasciare decadere un decreto fondamentale per la sua attività? E che conclusione avrebbero tratto i loro avversari in campo e in mare? Ci avete mai pensato? Noi riteniamo di no. Molti, è certo, avrebbero ritenuto debolissimo il Governo, come lo è nei fatti, in verità non senza qualche ragione e fragilissimo il consenso politico nel nostro Paese alla scelta di mantenere i soldati schierati in zone pericolose. Non proprio un bel viatico, c'è da dire. E la tentazione di attaccarli per provocarne il ritiro sarebbe stata molto verosimilmente irresistibile per gli avversari dei soldati italiani, di cui poi piangiamo immancabilmente e giustamente le sorti quando qualcuno di loro torna cadavere. Non approfondiamo poi il tema delle conseguenze sui nostri alleati, cui sicuramente non saranno sfuggite le scene penose di questi giorni, dato che in Roma ci sono ambasciate e media il cui compito istituzionale è proprio raccontare queste cose ai rispettivi governi ed opinioni pubbliche. Vi siete fatti prendere in giro un'altra volta. Questo è giocare con la vita di chi avete mandato a rappresentare l'Italia e dal tempo stesso indebolire il ritorno politico estraibile dei loro sacrifici. Che senso ha utilizzare i nostri uomini e donne in divisa come pedine nel grande gioco della politica internazionale, se poi il blef viene scoperto non dai talebani, ma dalle forze dell'opposizione interna al nostro Paese, senza che Governo e maggioranza reagiscono ed esercitano le proprie responsabilità. Onorevoli colleghi, Signor Presidente, Governo, questo è il massimo della irresponsabilità e della leggerezza. Proprio per questo motivo la condotta tenuta in questa circostanza, lungi dal generare fiducia nei confronti del Governo e della sua maggioranza, alimenta in noi, e non solo in noi, un senso di forte imbarazzo e sfiducia nei confronti vostri e del vostro operato. Di qui l'orientamento del gruppo parlamentare della Lega Nord, che annuncia in questa sede di negare, senza sé, senza ma, al Governo la fiducia che ci chiede. È un gesto che non riguarda l'operato dei soldati e neanche quello dei diplomatici, che invece encomiamo. Nemmeno degli operatori della cooperazione e lo sviluppo, su quali nutriamo qualche riserva sul modo in cui distribuiscono le risorse nel mondo, ma questo è un altro tema. La sfiducia concerne invece solo e soltanto il modo in cui è stata gestita la vicenda parlamentare collegata a questo Decreto 114. Francamente grottesco e dilettantesco. Vi invitiamo quindi a riflettere, colleghi della maggioranza e membri del Governo. Siete su una strada che non conduce molto lontano.